Benvenuti su Meteo Giulianci, il tempo previsto per domenica 14 di gennaio. La perturbazione giunta alla fine di venerdì ormai sta per abbandonare l'Italia perché il suo ciclone, il suo centro d'azione sarà ubicato sull'Egeo e quindi avremo pochi fenomeni di rilievo, come potete vedere qualche pioggia sulla Calabria Tirrenica e sulla Puglia Garganica, assenza di piogge ovunque. A fine giorno però, attenzione, siccome arriva un'altra perturbazione potrebbero arrivare delle piogge sul Piemonte occidentale con qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in ulteriore calo, quindi un po' freddo al centro nord e temperatura nella norma al sud. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.